Oggi il 26 dicembre, santo Stefano, buon santo Stefano Saluta che se ne va Oggi a parte cercare di sbloccare la stufa, no che dico, ci ho messo tipo un paio d'ora al mattino Suotare il cassettone della stufa della nonna, quello dei pellete, metterci lo svito, sperare che la coglia ricominciasse a ruotare Niente, pulire l'aspirapolvere dei pellete, tornate giù, guardate, una decina di puntate di Jessica Jones, qualche film di Natale No, sono uscito di casa e non mi ispira la cosa Ho finalmente caricato tutti i video Da il primo novembre al 19 dicembre Devo ancora metterli bene a posto perché sono un po' in disordine Questa tosse mi sta uccidendo, è davvero forte, mi fa male Questa mattina ho riempito fazzoletti di mucco giallo, cocciosissimo, disgustoso Sanco, malato, ma ora mi ha scritto, ma ora mi ha scusato Se non ci siamo visti ma era impegnato con i parenti io non me lo ricordavo neanche Che ci dovessimo vedere, meno male perché non si è riuscito Mi ha invitato domani a una merenda con anche Antonio e Daniele Però domani dovrò andare per mamma in paese perché c'è la festa di addio di Renzo e il passaggio a Carmine Non ho fatto niente Non ho giocato al computer, non ho letto, non ho fatto i compiti A parte guardare la tv con mamma Non ho fatto niente Ho un paio di match nuovi su Tinder ma devo anche sentirmi con quella vecchia Ma malato come sono, mi piacciono il naso, l'idea anche solo di uscire a me Mi rendo triste, non so quanto dico voglio farlo Buonanotte